Molte fiori è tornato ai buoni livelli. Ariolo ha perso quello di me perché ha giocato un po' maligno conti. Dopo si è un po' imbarcato alla fine. Quando fa quella botta lì, lui tira lì di basso. Io dicevo che tu mi lasciavate a bulgaria. Io non guardo se ho giocato male, io guardo la tua prestazione. La mia è stata negativa per me. Puoi giocare meglio. Poi il montanario mi ha detto che la sera prima ha giocato anche meglio. Grazie. 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 Allora, facciamo ancora una o facciamo vedere? Allora, non si può anche andare a punto, no? Questo è tuo. Ci dà di nuovo. Buongiorno. 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 Buongiorno.